Non rispondo a un simpatico politico tedesco che mi auguro si occupi di Germania come io mi occupo d'Italia. Mentre la von der Leyen ha detto che vuole cambiare il regolamento di Berlino. Sono anni che lo chiediamo, quindi se l'Italia smetterà di essere il campo profughi d'Europa, è l'unico punto di sbarco per Barchini e Barconi, ne sarò contento. Io al governo non ho aspettato che cambiassero le regole e ho chiuso i porti. Questo governo ha spalancato porte e porticini, speriamo che si fermino perché poi i problemi ce li hanno gli italiani. Il cambiare di Berlino è la strada che deve seguire l'Europa? Anche, non solo, non solo, e fare accordi con i paesi di partenza. Il paese di massimi arrivi quest'anno in Italia è la Tunisia e il secondo è il Bangladesh. Non mi risulta che ci siano guerre o pestilenze né in Tunisia né in Bangladesh.